Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo vlog oggi vi insegnerò come fare tipo un trucco semplice e non troppo forte e io l'ho già fatto però adesso mi strucco e vi faccio vedere ok mi sono appena struccata a sinistra il vostro cuore perché mia mamma sta là a guardare la tv ok io vi consiglio di iniziare con i tipo o il fondotinta se ce l'avete io non ce l'ho perché non lo uso mi piace così la mia pelle e ho pure un correttore che però io ho ecco qui e andate mettetelo dove volete cioè sotto gli occhi metto anche un po' qua e sotto la fronte cioè sotto la fronte sotto il mento e ovviamente spalmate ok se volete mettete tipo qualche cosa tipo il blush qualche tipo la terra qualcosa che che volete me lo sono messo appena nell'altra guancia adesso lo metto in questa io non ho i pennelli quindi mi spavano con le mani mi frega tanto mi sono appena legato i capelli se no mi dava fastidio mi andavo in tutto il bacio ok adesso prendete un po' di mascara e mettetelo nel ciglia e anche sotto e anche sotto vi consiglio ok oddio sporca mi scriva ok adesso mi metto sotto senza colpirvi all'occhio come ho fatto io appena poi mettete un po' di eyeliner io ho già solo quello marrone quindi cioè mi è contento come dovevo dire ok me ne sono messo ma non mi muovo proprio benissimo e adesso mi metto un po' di ombretto però visto che ho fatto i calcoli stupidi ho messo prima il mascara dovevo mettere prima l'ombretto quindi che devo dire io metto qua questo bello azzurro stupendo un occhio e l'altro occhio adesso li posto con il mascara perché sennò il mascara è azzurro e dopo mettete un lip gloss un rossetto io metto questo tutto rosa brillantinato ok questo è il mio risultato e credo che dovrebbe portare anche a voi e adesso mi scioglio i capelli per farvi vedere di più spero che vi è piaciuto puro metto questo olio per i capelli color look questo è il mio risultato spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video qui è piaciuto mi piace mi piace